E' arrivato il momento di collegarsi con l'esposizione universale, ci colleghiamo con Paolo Colombo in diretta dall'Expo. Buongiorno Caterina, buongiorno ai nostri telespettatori, 33 gradi oggi qui al sito di Ropero, una leggera brezza così ad alleviare i visitatori che sono arrivati, un'affluenza discreta quest'oggi, ma a far discutere sono sempre i dati dei visitatori dei primi due mesi. Salan aveva annunciati 6 milioni, vedremo come andrà luglio, ma soprattutto a preoccupare è il mese d'agosto, da sempre nella storia delle esposizioni universali il mese che fa registrare un'affluenza minore. E per ovviare a ciò ieri è stata presentata proprio qui ad Expo un'iniziativa molto particolare, Agosto in Expo, per tutti coloro, per i contribuenti e per i pensionati che hanno un reddito inferiore ai 10 mila euro, sarà possibile visitare per tutto Agosto Expo gratis. Previsto anche uno sconto del 50% sui biglietti ferroviari per coloro che arriveranno appunto a visitare l'Expo in treno, che è sempre uno dei modi migliori per arrivare qua. Alle mie spalle vedete la pagoda del padiglione del Nepal, che è stato uno degli ultimi ad essere ultimato, è stato inaugurato solamente due giorni fa a causa del terribile terremoto che distrusse il Nepal e che causò più di 8 mila morti. Vediamo comunque adesso il servizio che riguarda appunto Agosto in Expo. Portare ad Expo 2015 quanti più visitatori possibili, anche in mesi difficili come Agosto, quando gli italiani sono in vacanza e scappano dalle città, e cercare di mettere fine alle continue polemiche sui numeri effettivi dei visitatori dell'Esposizione Universale di Milano. Una spina nel fianco per gli organizzatori di Expo, i numeri ufficiali annunciati da sala all'inizio di luglio, 6 milioni di visitatori nei primi due mesi di esposizione, non convincono il partito degli Expo scettici. Alcuni settori del Consiglio Comunale della Regione hanno chiesto al commissario più trasparenza un'analisi approfondita e credibile che risponda all'evidenza dei parcheggi vuoti e dei dati del trasporto pubblico ATM o Trenord inferiori rispetto alle attese. Ed ecco che arrivano gli sconti d'agosto per pensionati e contribuenti con redditi sotto i 10 mila euro che potranno visitare Expo gratis per tutto il mese. Ad alcuni è sembrata una corsa contro il tempo per cercare di alzare l'asticella del pubblico in quello che si preannuncia il mese più critico ed è il commissario Sala a rispondere. Non sto facendo il campionato per avere il numero più alto possibile, stiamo cercando di lavorare per portare quanti più italiani possibili. dopodiché la trasparenza che c'è sulla vendita dei biglietti è assolutamente totale per cui alla fine per quelli che vorranno dilettarsi nell'esercizio di trovare, di verificare appunto quanti biglietti sono stati venduti, quanti serali, quanti di promozione, quanti studenti, quanti con questa formula, sarà evidentemente di una trasparenza totale perché il bilancio è l'unica cosa che non mente, quindi diciamo che certamente, ma certamente al 1000% l'operazione del genere non nasce dall'idea di così aggiungiamo un po' al numero. Sala esclude così che l'iniziativa sia stata pensata per aumentare l'affluenza ad Expo e annuncia che il picco dei visitatori è atteso a settembre-ottobre. Intanto di mezzo c'è il mese d'agosto con l'arrivo degli stranieri che oggi sono il 20% del totale dei visitatori per lo più svizzeri, francesi, americani, cinesi e sono attesi anche i tedeschi appassionati di vacanze nel nostro paese. E gli italiani? All'Expo è arrivato anche il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a certificare l'iniziativa in accordo con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Ferrovie dello Stato l'esposizione universale si aprirà gratuitamente ai cittadini italiani meno fortunati i cosiddetti redditi bassi ovvero una comunità potenziale di circa 2 milioni di persone che senza questo accordo spiega il presidente dell'Inps, Tito Boeri, non avrebbero potuto permettersi di visitare l'esposizione universale. I requisiti per poter ricevere questo invito sono quelli di avere una pensione, un insieme di redditi pensionistici inferiori ai 10 mila euro lordi oppure un reddito valido ai fini previdenziali quello che non risulta quando si danno i contributi alle pensioni anche esso inferiore a 10 mila euro. Per aderire all'iniziativa basterà richiedere il codice PIN che l'Inps rilascerà attraverso il suo sito poi bisognerà scaricare la prenotazione per la visita, lo stesso codice sarà poi necessario anche per acquistare i biglietti ferroviari scontati del 50% per raggiungere il sito di Ropero.